questo è il momento della preparazione sto preparando i capelli per l'applicazione della tinta la mia cavia è pronta centro ti vedi pure non è giusto ho messo la camera ecco un consiglio non permettiamo mai di guardarsi allo specchio sennò può migliorare dire ma lì non l'hai fatto lì non l'hai messo sono passati tre minuti devi fare un quarto d'ora un quarto d'ora va bene pronti nuovo tempo massimo venti minuti che faccia che c'è che cosa devo fare Spero fino all'orecchia Ogni tanto litigo con i capelli Sono l'uomo di casa Oggi faremo la tinta alla moglie Ecco, l'uomo di casa Ti sfido a fare la tinta alla moglie Lascio il mio link, il suo link in descrizione così Vedono tutti la sfida che ho portato Anzi, propongo un'altra sfida Sfido Sfido, l'uomo di cioccolato Sfido L'uomo di cioccolato Aspetta che faccio questa parte e poi te lo dico Sfido Cuore di cioccolato A fare la tinta a sua moglie Non lo farà mai? Vediamo cosa si inventa Lascio sempre il link in descrizione Deve fare La tinta con i coloranti naturali Alimentari Adesso Mi sto stancando Mi sto due metri da sopra Non lo so Faccio la testa così bassa che Non mi disturbo e devo stare così Fai, no? Oh, la Sono arrivato alla fine Così Come un colap Aspetta che mi trovo questi Capelli straffati Per non straffati 50.000 Adesso Massaggio Massaggio Tira indietro Oh E cominciamo a tirare Ho sporcato adesso le orecchie Porca idea Cominciamo a tirare con le dita Prendiamo i massagini Il movimento è come Cercare qualcosa Un cane che cerca qualcosa I bidocchi I bidocchi Prendiamo tutti i capelli Vediamo i danni che ti ho fatto Altro che danno È fatto benissimo Più o meno Vabbò Vediamo com'è venuto Alla fine di questo video Eh sì Sembri la bella La bella addormentata nel bosco Un po' struccata I capelli I capelli sono venuti bene Vediamo Vediamo che non si vede Si vede Si Si vedono anche i brufoli Si Si vede Chiudiamo con questo bello specchio Grazie mommino Vedete così Ciao 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 Ciao